Sono coinvolte anche aziende con sede a Polla e a Sala Consilina nell'operazione anti-evasione messa a segno dalla Guardia di Finanza di Lauria nel settore dei pubblici spettacoli. L'attenzione delle fiamme gialle si è concentrata sugli eventi musicali nel corso di sagre e feste patronali nei comuni del Lago Negrese, Valsinia e del Polino. Oltre 100 concerti tenutisi nel biegno 2012-2013. Dalla documentazione raccolta negli uffici della SIAE, dei comuni, delle associazioni proloco, dei comitati feste e persino nelle parrocchie, è emersa nello specifico l'operatività di due imprenditori lucani, uno titolare di un'agenzia specializzata e l'altro di una discoteca che gestivano gran parte degli eventi nella zona, identiche le modalità di evasione. L'agenzia, al momento della corrisponsione delle somme raggiunte attraverso le offerte dei cittadini, pattuite per l'esibizione degli artisti, in molti casi non rilasciava alcun documento fiscale. In altri casi, invece, metteva fatture con importi pari ad un terzo del reale. Analogo sistema veniva adottato dal titolare della discoteca, in questo caso in diretto rapporto con gli artisti. Utilizzando il contante, ovviamente, sono state riscontrate anche numerose violazioni alla normativa antiriciclaggio per un totale di 250.000 euro. All'esito delle verifiche fiscali condotte nei confronti dei due imprenditori, sono stati individuati ricavi non dichiarati dall'agenzia per 750.000 euro, un'evasione di IVA pari a circa 100.000 euro, mentre la discoteca ha sottratto imponibili per circa 210.000 euro, evadendo l'IVA per circa 30.000 euro. Il titolare dell'agenzia è stato anche denunciato dalla Procura della Repubblica di Lago Negro per aver occultato documenti e scritture contabili. L'attività svolta dalla compagnia di Lauria ha infine consentito di individuare altre agenzie con sede nel Vallo di Diano, in particolare a Polla e a Sala Consilina.